buonasera rieccoci poi dopo vi vedete tranquilli tutte le foto siamo giunti all'ora della cena cosa c'è per cena one moment stasera abbiamo fatto leggermente gli ingordi poco poco questa è la tavola nostra qui c'è l'involtino i gamberi l'involtino i classici il ramen gli adamant che adoro sì mezz'ora ma l'ho già mangiata io vabbè gli spaghetti poi vabbè ha mangiato come si chiamano gnocchi a vapore ha gli gnocchi di carne gli gnocchi i ravioli i ravioli di carne i ravioli di gamberi quelli invece sono gli gnocchi buoni sì molto una cosa che non avevo mai assaggiato non avevamo mai assaggiato né quelli e né questo qua che questo è il toste gamberi nei ristoranti dove siamo andati non non lo abbiamo chiesti o non li abbiamo trovati poi il pane coniglio vedete la foto poi su l'altro social che dire buon appetito e piatto pulito tostino ai gamberi come amore buono e buono anche senza salta lo cuccio nella santa e cosa c'è a me cogliendo l'occasione che nei giorni scorsi in tanti ci avete chiesto quale albergo stavamo alloggiando vi abbiamo detto l'albergo vi abbiamo fatto vedere la stanza però non vi abbiamo mai fatto vedere il momento della cena questo è il giardino allora vedete laggiù c'è la la porta da dove poi entriamo in camera guardate quanto sono belli quei gerani tutti colorati la fontanina tutte le piante c'è scacco che mangia e poi aspetta si riprende di qua e ho dato così la vista completa il nostro piccolo angolo di paradiso sì il nostro piccolo angolo di paradiso quindi cari follower non ce lo rubate no no vi si dà le coordinate sbagliate vi si dà le coordinate sbagliate tanto se no grazie a tutti Grazie a tutti.